Dalla ricerca e sviluppo 3M Lite, la luce a LED made in Bologna che sta conquistando il mondo. Ora anche a casa tua. Crea, illumina, valorizza i tuoi spazi. Con le soluzioni di lampadari a LED della esclusiva linea BB Lite. Le lampadine a LED da interno e esterno. Stile italiano, tecnologia innovativa, risparmio energetico. 3M Lite. Vendita, consulenza e assistenza per privati, professionisti e condomini nello showroom laboratorio a Bargellino, Calderara di Veno, Bologna, via Commenda 1B. Telefono 051 646 3005. 3M Lite. Luce per i tuoi occhi.